ciao oggi sono qui per farti una promessa so che dicendo ciò molto probabilmente qualcuno si lamenterà e non mi seguirà più però va fatta questa promessa innanzitutto sappi che al mio corso non si ballerà non si canterà e non ci si automotiverà so che molti miei colleghi utilizzano queste tattiche all'interno del loro corso e non lo fanno certo perché sono degli ingenui ma perché conoscono bene il loro target e sanno che purtroppo ancora oggi nel 2017 ci sono dei parrucchieri e delle parrucchiere che credono di poter svoltare continuando a frequentare i corsi di formazione di base tecnica e continuando a frequentare dei corsi automotivazionali che gli permettano poi di tornare a lavorare con il sorriso stampato sulla faccia e accogliere in maniera migliore le proprie clienti bene io non faccio di certo questo come lavoro e so che se utilizzassi alcuni frasi motivazionali all'interno del mio corso molto probabilmente i miei corsi si riempirebbero molto più velocemente però quello che faccio io è di formare dei veri e propri air stylist di successo il resto lo lascio agli altri so per certo anche che una volta che avrei frequentato il mio corso tornerei a casa magari un po meno rilassato e felice però con un bagaglio di conoscenze di strategie pratiche avanzate da mettere subito in atto e te lo te lo dico perché già con il mio libro molti hanno messo in pratica delle strategie fenomenali nel mio corso ce ne saranno altre di contenuto assai più avanzato per cui se vuoi rinunciare a un weekend di un corso formativo che magari ti mette a disposizione anche una spa dove ballare e cantare dirsi quanto si è bravi e felici al mondo e in realtà provare a investire in qualcosa di realmente utile per la tua attività ti consiglio di andare a visitare la pagina relativa all'escrizione del mio corso air stylist di successo masterclass l'evento esclusivo di marketing pratico per i parrocchieri che si terrà a bologna il 23 ottobre 2017 quindi vai su www.michelaferracuti.it slash masterclass punto html e riservati un posto per il corso ciao